Shalom a tutti, 12 Shvat. Ci sono due mondi. Un mondo è la mente. L'altro mondo è l'emozione. La mente è un mondo freddo, tranquillo. L'emozione è un mondo bollente, caldo, spaventato. E questo è il lavoro dei uomini. Il nostro lavoro è questo. Di unire questi due mondi. Unire mente e cuore. Che siano uno. Per cui a posto di avere confusione o essere spaventati, dobbiamo avere una voglia, un'espirazione. E la mente ci deve guidare la nostra espirazione nella nostra vita in maniera che noi lavoriamo in maniera concreta, ci impegniamo a fare quello che dobbiamo fare, cioè la volontà di Dio. Per cui bisogna sviluppare le emozioni giuste. La mente deve guidare il cuore a sviluppare le emozioni giuste. E fare sì che queste emozioni siano costanti e ci aiutano a realizzare quello che noi vogliamo realizzare, quello che Dio vuole che noi realizziamo nella nostra vita. Shalom a tutti. Arrivederci. A domani. Con l'aiuto di Dio. Grazie.